Giornata nazionale dello sport 2014, 8 giugno a Biceglie con il sindaco Francesco Spina, testimonial di questa giornata con 13 discipline dimostrate, 16 discipline presenti, 36 società di Biceglie presenti in piazza Vittorio Emanuele, e addirittura tutte e due le piazze impegnate per questa grande manifestazione sportiva. Sì, un orgoglio di una città e coinvolge un po' tutti, il presidente provinciale del CONI, Dodo Alvise, è venuto qui a testimoniare proprio questa vitalità dello sport bicegliese, questa capacità di organizzazione delle associazioni, peraltro una giornata particolare perché il basket è impegnato e facciamo un in bocca al lupo in uno straordinario appuntamento che potrebbe determinare la sua promozione nella serie superiore e qui tanti sport minori con i bambini più giovani, è veramente coinvolgente, tant'è vero che mi hanno trascinato anche a fare qualche tiro con la racchetta dopo tanti anni, ma farlo con Isidoro Alvisi che è stato un campione di Serie A del tennis nazionale quando ero adolescente, è una cosa bellissima, mi ha coinvolto anche emotivamente poi sudare e fare sport durante la giornata nazionale dello sport, è una cosa bellissima che per un sindaco è veramente un momento irrinunciabile, è un momento da vivere fino in fondo insieme a tutti gli amici della città. Un dato importante è la presenza di discipline come il ping pong e il baseball che stanno per nascere a Biceglie e questo significa che la città risponde non soltanto sugli sport principali come calcio e basket, ma anche su tante altre discipline, è un segno di grande vitalità. Vitalità della città, ma consentitemi di dire anche una capacità dell'amministrazione comunale di coordinare, di sostenere, di creare strutture sportive, ci sono altre strutture programmate nuove in corso di realizzazione, si stanno facendo lavori su campi e strutture già esistenti e poi un tiro a segno con un poligono che è di livello nazionale, una piscina comunale, due stadi, due campi di calcio, tanti campi di calcio al 5, una struttura per il tennis, potrei stare qui a parlare per tanti tanti minuti, dico che a Biceglie esiste rispetto agli altri territori della BAT, un'offerta di strutture sportive che non è uguale, non appare e questo consente anche di sviluppare quella passione che cova sicuramente nell'animo dei bicegliesi a livello sportivo che ha portato a grandi livelli il calcio e poi tutti gli altri sport minori come il basket, il tennis con risultati nazionali e l'atletica, non dimentichiamo, con risultati straordinari, con talenti nazionali che sono proprio di Biceglie.